Musica Ben ritrovati tanti gli argomenti all'interno del nostro TG, cominciamo dai titoli. 750 morti in 20 anni, il bilancio tragico della strada della morte, la statale 106. Oggi il comitato basta vittime e chiede l'intervento dell'ANAS sul tratto maledetto. Nove anni di commissariamento non hanno prodotto nulla, il deficit è di 991 milioni di euro, il costo dei viaggi della Sferanza tocca quota 328 milioni l'anno. Le ambulanze rotte rimangono ferme ai box perché l'ASP non autorizza le riparazioni favorendo i mezzi privati. Il Banco Alimentare corre in aiuto ai calabresi in difficoltà economica, sono 120 mila le persone destinatarie degli aiuti alimentari dell'Associazione di Volontariato. Nessuna comunicazione è pervenuta al momento al PD dall'imprenditore Rubettino che sta valutando la proposta di Zingaretti. Lunedì 5 Stelle probabilmente sceglieranno il loro candidato. La Banca di Credito Mediocrati acquisisce 14 sportelli del ramo calabrese di Banca Sviluppo dal 18 novembre operative le nuove filiali. Crotone ricorda la strage ferroviaria del 16 novembre del 1989 in cui morirono 12 persone nel corso della cerimonia ribadita la necessità di aumentare gli standard di sicurezza della linea ionica. Ancora ben ritrovati e buon sabato dalla redazione del TGTN in primo piano. La strada statale 106, troppe le morti pensate, 750 le vittime in 20 anni. I numeri resi noti dall'associazione Basta Vittime che nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro ha parlato anche di una storica sentenza. Sentiamo. Gli occhi gonfi di dolore della mamma di Matteo che ha perso la vita a soli 12 anni. Tiene in mano la foto, la nonna. Il dolore è ancora vivo. La tragedia è avvenuta lungo la statale 106 il 24 agosto 2013. Era con me quella mattina, ho voluto venire con me, giusto così, niente. E' stata questa macchina, se ne è venuto dalla parte opposta dove eravamo noi, l'ha travolto. A 130 km orari andava. Non c'è stato niente da fare, molto sul colpo, davanti ai miei occhi. C'è la storia di Rosaria, 29 anni, investita il 30 luglio 2017. Era con i fratelli e le cognate. La macchina l'ha investita. Questo drogato dall'altra corsia è arrivato proprio alla porta del bar, da una cornetteria uscivano. E tutti sono andati a finire all'ospedale. Ma lei era la più grave. 29 anni, una ragazza di valore. E non è giusto. Gli hanno dato due anni e otto mesi perché è un ragazzo. Storie drammatiche di dolore e di sofferenza dei familiari che oggi a Catanzaro, nella giornata mondiale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite dedicata a tutte le vittime della strada, hanno voluto ricordare i loro cari e fare un plauso per una sentenza esemplare che ha condannato l'ente gestore e proprietario della strada per la pericolosità e i difetti di costruzione. Sono punti dove sostanzialmente la strada, che è stata progettata tantissimi anni fa, quando si camminava con i carretti e i cavalli e poi dallo Stato Repubblicano successivamente, quando i volumi di traffico erano bassissimi, e le macchine non correvano tanto, questi punti avevano all'epoca delle oggettive facilità di transito. Oggi invece sono pericolosissimi, ce ne sono tanti nella provincia di Cosenza, nella provincia di Cotone, nella provincia di Catanzaro. Su alcuni di questi noi siamo riusciti a far intervenire in questi anni l'ANAS, come vi abbiamo fatto vedere. E grazie a quegli interventi abbiamo salvato vita umana, l'abbiamo dimostrato. La sanità adesso, in nove anni di commissariamento, la sanità calabrese ha moltiplicato le spese. La situazione è molto grave, la denuncia di Rubens Curia, portavoce del movimento, che ha inoltrato al commissario Cotticelli, al presidente del Consiglio regionale Nicola Irto e al delegato alla sanità, Franco Pacienza, un piano di risanamento. Vediamo di cosa si tratta. In nove anni di commissariamento della sanità calabrese, la mobilità passiva ha raggiunto 353 milioni di euro. Dati si riferiscono al solo 2018 e sono stati resi noti dal tavolo a duce. Nulla di nuovo, se non la conferma, che meno efficiente al servizio sanitario più si spende. Il deficit complessivo per la Calabria ammonta a 991 milioni di euro, esclusa all'ASP di Reggio Calabria. Pensate che nel solo 2018 il disavanzo è stato pari a 213 milioni di euro, che i calabresi hanno in parte coperto pagando IRAP e IRPEF per quasi 106 milioni. Numeri di una situazione disastrosa, così la definisce comunità competente di cui è portavoce Rubens Curia. Una vera e propria emergenza che investe il sistema sanitario regionale. Come guarire quello che appare come un malato grave? La cura in un documento che comunità competente ha consegnato al presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, al commissario ad acta, Saverio Cotticelli, al delegato per la sanità, Franco Pacenza, la proposta di riforma organizzativa ed etica con un secondo piano regionale per la salute che istituisca le aziende sanitarie ospedaliere, le ASO, i cui management gestiranno l'ospedalità pubblica e privata accreditata, riorganizzando le reti ospedaliere. Contestualmente è urgente, sottolinea Curia, rispondere alle emergenze che denunciano i sindaci in merito alla carenza di personale. Nel solo 2018 sono andati in pensione 431 operatori, costringendo il personale in servizio a turni massacranti. Nell'emore dei concorsi, e questa l'ipotesi avanzata, siano bandite ore di specialistica ambulatoriale interna o si faccia il completamento a 38 ore, affinché questi medici specialisti possano lavorare negli ospedali, garantendo qualità e copertura dei turni. Il piano sarà attuato? Vedremo. Niente manutenzione per le ambulanze del 118 di Cosaenza. L'azienda sanitaria provinciale non piaga le officine autorizzate che non effettuano più interventi. Una situazione allarmante che determina ritardi nei soccorsi e nei trasferimenti urgenti. Vediamo. Le ambulanze del 118 sono ferme ai box, mezzi obsoleti e senza la necessaria manutenzione, visto che le officine autorizzate ad eseguire riparazioni non effettuano più questi lavori, a causa di una situazione creditoria pregressa, accumulata nel tempo. Nonostante le proteste e le denunce, ad oggi nessun intervento concreto. Da ieri, tra l'altro, è scattato l'obbligo di montare pneumatici da neve, di cui però i mezzi del 118 sono sprovvisti. Ci sono poi alcune ambulanze con oltre 400.000 km, usurate dal tempo, che necessitano di continue riparazioni, ma l'ASPE non paga. I debiti si sono accumulati e così le officine hanno bloccato le riparazioni. Una situazione allarmante che determina ritardi nei soccorsi e nei trasferimenti urgenti. Allora, come si può garantire il servizio di emergenza urgenza? Semplice, si ricorre ai privati, con un aggrave economico per l'azienda sanitaria. Da una parte, dunque, non ci sono soldi per la manutenzione del parco macchine del 118. Dall'altro, si spendono bei soldini per coprire il servizio ricorrendo alle ambulanze private. Un controsenso? Eppure è così. C'è poi la carenza di autisti. L'ASPE di Cosenza non ha ancora proceduto all'assunzione di 16 unità scorrendo dalle graduatorie. Assunzioni che andrebbero a sarare. Una situazione che si trascina da tempo e che riguarda alcune postazioni del 118, come lungo e cariati, gestite da privati, con un costo giornaliero di circa 400-500 euro. Sulla vicenda interviene anche l'OSB, Federazione del Sociale di Cosenza, che evidenzia le criticità e i ritardi che si ripercuotono su un servizio essenziale per garantire il pronto intervento ai cittadini. La chiusura di molti ospedali periferici e il ridimensionamento di alcuni servizi nei territori avrebbe dovuto comportare il potenziamento del 118, ma ad oggi accade esattamente il contrario. E il piano di rientro negli anni ha mortificato e messo in ginocchio il sistema sanitario della regione. A Castrovillari per la situazione davvero incresciosa e incredibile delle sale operatori il consigliere regionale Carlo Guccione ha inviato una seconda interrogazione e risposta scritta al presidente Mario Oliverio che la regione ha speso inutilmente 5 milioni sprecando risorse pubbliche per un'opera che non può entrare in funzione se non vengono effettuati gli interventi per procedere al collaudo, all'accreditamento e all'utilizzo del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Castrovillari. Nulla è stato fatto dalla regione Calabria con Cude Guccione per prevedere gli interventi necessari all'apertura del blocco operatorio. Quindi sale operatori è pronte, però purtroppo chiuse. Siamo alla politica, cento militanti calabresi del Partito Democratico tra segretari e coordinatori di circolo hanno scritto al segretario Nicola Zingaretti per proporre la data dell'8 dicembre per lo svolgimento delle primarie per la scelta del candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Calabria dicendosi contrari alla candidatura dell'editore Florindo Rubettino. Sulla fronte 5 Stelle invece nei prossimi giorni Di Maio ha detto ci sarà la decisione su Calabria e poi c'è una dichiarazione del coordinatore per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle Parentela che precisa che le regole e i principi proprio del Movimento 5 Stelle non consentono la candidatura di eletti con il Movimento che siano in carica e quindi dice Parentela invito a spendere le loro energie per il bene della comunità calabrese la sola nostra priorità specie in questa fase di confusione e rimescolamento che interessa i vecchi partiti e non ci riguarda affatto quindi una situazione ancora molto fluida ma facciamo il punto nella nostra pagina politica Mettiamo per ipotesi che Rubettino dica no a Zingaretti magari perché dopo aver meditato ritiene non praticabile il percorso se ciò dovesse accadere il PD ha pronto un piano B e chi lo sa al momento il commissario Graziano è tutto concentrato nel portare a casa il risultato e non si è posto il problema magari si vedrà il da farsi in seguito una cosa è però certa non c'è alcuna possibilità che il partito recuperi Oliverio ormai tra le due anime della forza politica non c'è più nemmeno la possibilità di dialogo e finita in malo modo con l'accusa di stalinismo per come i vertici del partito stanno affrontando questa delicata fase politica addirittura quelli che non molliamo Oliverio prefigurano scenari apocalittici per il PD calabrese che rischia l'irrilevanza politica detto questo è inimmaginabile un passo indietro anche se è in politica mai dire mai ma c'è un limite a tutto morale della favola se non dovesse accadere qualcosa al momento impensabile il PD si troverà in campo con due candidati uno ufficiale certificato dai vertici del partito l'altro di sostanza voluto dagli organismi territoriali la prossima sarà la settimana decisiva per definire lo scenario giorni caldi anche per il Movimento 5 Stelle chiamato a decidere cosa vuol fare in Calabria le idee non sono proprio chiarissime c'è chi vorrebbe rimanere a casa e gustarsi da spettatore le elezioni e chi invece spinge per scendere in campo già scendere in campo ma con chi? da soli chiaramente è qui che sorge il problema bisognerà individuare il candidato la ricerca a dire il vero è iniziata un po' di tempo fa se è vero per esempio che a Francesco Aiello così come pensiamo sia accaduto ad altri è stato chiesto di inviare il curriglum a Di Maio e sarà proprio il capo del Movimento che lunedì sarà chiamato a decidere i nomi ne stiamo valutando tanti e ovviamente stiamo dialogando con le personalità che insomma abbiamo coinvolto stiamo provando a coinvolgere in questo percorso vedremo anche in base alla loro disponibilità nel centro-destra bocche cucite in attesa della riunione che si terrà martedì a Roma tra Berlusconi, Salvini e Lameloni a Crotone adesso dove sono state ricordate le 12 vittime dell'incidente ferroviario avvenuto il 16 novembre del 1989 a distanza di 30 anni da quella strage la tratta ionica non ha ancora raggiunto standard di elevata sicurezza vediamolo due foto a colori un po' sbiadite sono l'unico ricordo che si trova a distanza di 30 anni dell'incidente ferroviario avvenuto il 16 novembre 1989 a Crotone una strage quasi dimenticata in cui perso la vita 12 persone l'impatto violentissimo tra due automotrici partite da Cariati e un convoglio con quattro carrozze provenienti da Catanzaro che viaggiavano a velocità vicina ai 100 km orari tra le vittime, pendolari e personale delle ferrovie l'incidente avvenne nei giorni seguenti a un guasto e gli appalati elettrici che costringeva capostazione e capotreno a comunicare attraverso moduli cartacei e comandi visivi uno dei treni, il Cariati Catanzaro partì prima del dovuto causando lo scontro mortale nel giorno dell'anniversario si celebrano ogni anno cerimonie finalizzate a ricordare le vittime e puntare l'attenzione sulla necessità di migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza della linea ferroviaria ionica ancora non all'altezza dei livelli esistenti nel resto del paese è giusto ricordare sono passati 30 anni però rimane il dolore per la perdita di queste lavoratrici di questi lavoratori sono morti come incidente di lavoro e poi ricordarli non solo ai familiari ma a tutta la città e alla Calabria noi li ricordiamo e ringraziamo in qualche modo cerchiamo di recuperare che da questo sacrificio venga fuori almeno qualche azione di bene per gli altri pendolari attualmente comunque devo dire che non ci sono novità positive per il trasporto pendolare nella ferrovia ionica e questa è un'amarezza perché non è bastato il sacrificio di 12 persone perché le cose cambiassero completamente ancora non ci siamo le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi 5 scosse di terremoto in poche ore nel terreno cosentino la più forte di magnitudo 3.7 registrata poco dopo le 2 a largo di scale ad una profondità di 7 chilometri aveva una relazione extraconiugale con la figlia di un esponente dell'Andrangheta per questo l'8 febbraio del 2016 fu ucciso Alfredo Pileggi 38 anni a ricostruire il movente del delitto sono stati i carabinieri della compagnia di Rocella Ionica che con i colleghi di Monasterace hanno arrestato il presunto autore Cosimo Sorgiovanni di 41 anni ritenuto legato alla famiglia di Andrangheta dei Ruga era ai domiciliari per scontare una condanna per violenze e danni dell'ex moglie ed è stato nuovamente arrestato per maltrattamento e danni di una familiare che vive con lui è accaduto a Paola dove personale del commissariato di polizia ha eseguito un'ordinanza emessa su richiesta della procura al termine di indagini iniziate dopo l'intervento di una volante a casa dell'uomo di 50 anni un altro caso di violenza è stato scoperto a Cosenza dove gli agenti delle volanti hanno arrestato per atti persecutori un cinquantenne e danni dell'ex moglie fatto oggetto di violenza su prusi minacce pedinamenti appostamenti l'uomo è stato fermato mentre minacciava la donna un cinquantaquattrenne è stato arrestato dai carabinieri di Crotone per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti l'uomo era ristretto ai domiciliari ma spacciava eroina ad insospettire i militari un viavai di persone dall'abitazione del cinquantaquattrenne i carabinieri hanno così fatto irruzione e nel corso di una perquisizione domiciliare sono state rinvenute cinquantotto dosi di eroina due persone sono rimaste gravamente ferite nello scontro tra due auto avvenuto la notte scorsa alla Mezzia in via del Progresso in località Martinica per causa in corso di accertamento poco prima della mezzanotte si sono scontrate una Fiat Brava e una Sette Leone la Fiat è finita fuoristrada e si è ribaltata più volte terminando la sua corsa nei campi i vigili del fuoco di la Mezzia hanno dovuto estrarre dalle lemere contorto i due passeggeri poche ore prima un altro incidente nel Cosentino a Luzzi incontrata l'Inza nello scontro tra due mezzi pesanti due persone sono rimaste ferite cambiamo argomento la BCC Mediocrati ha acquisito il ramo calabrese di banca sviluppo per un totale di 14 sportelli ieri sera la firma ufficiale vediamo la BCC Mediocrati ha acquisito il ramo calabria di banca sviluppo consistente in 14 sportelli dislocati nella provincia di Cosenza l'atto di acquisizione è stato firmato a distanza di 20 anni esatti dalla fusione tra le ex BCC di Bisignano Luzzi e Rotagreca che sancì la nascita del credito cooperativo Mediocrati l'intervento oltre a sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio permetterà di tutelare i depositi dei clienti che avevano stretto un legame bancario con le ex BCC rilevate negli anni precedenti in Calabria da banca sviluppo è garantita anche la salvaguardia sul territorio di 100 posti di lavoro le nuove filiali dopo la migrazione informatica che sarà effettuata nel fine settimana saranno operative a partire da lunedì 18 novembre la BCC Mediocrati dunque continua a crescere e si conferma la banca di credito cooperativo più grande a sud di Roma con competenza su 98 comuni il volume complessivo degli impieghi sul territorio provinciale sale a 473 milioni di euro con una raccolta complessiva superiore al miliardo di euro il numero dei clienti sale a oltre 65 mila serviti da 232 dipendenti in 33 filiali oltre al centro direzionale di Rende si tratta di un momento storico per la banca ha commentato Nicola Paldino presidente della BCC Mediocrati che si concretizza sotto legida della capogruppo in Crea e ha aggiunto con questa operazione straordinaria rafforziamo il presidio sul territorio nel quale la nostra banca ha una solida presenza e continuità operativa da 113 anni sono 120 mila i calabresi in difficoltà economiche sostenuti dal Banco Alimentare i dati nel corso di un incontro che ha fatto il punto in occasione dei 30 anni di attività della fondazione e lanciato il tradizionale appuntamento con la colletta alimentare in programma sabato 30 novembre vediamo le scatole di cartone sono pronte per la giornata della colletta alimentare la ventitresima della storia il 30 novembre prossimo sabato come da tradizione saranno mobilitati 145 mila volontari nei 13 mila supermercati italiani che hanno aderito all'iniziativa del Banco Alimentare sono passati 30 anni molti dei giovani di allora hanno i capelli bianchi negli occhi la sorpresa qui la definiscono miracolo per i risultati raggiunti 21 banche in tutta Italia una presenza capillare oltre 7500 strutture caritative aiutate 90 mila tonnellate di cibo distribuite 1800 volontari in tutti i banchi italiani un milione e mezzo di persone che in qualche modo sono sostenute dalle strutture caritative che noi aiutiamo e questa è proprio la caratteristica del Banco aiutare chi aiuta la sede del Banco Alimentare in Calabria è presso il Comac di Montalto Uffugo sono 120 mila le persone a cui arrivano mensilmente i pacchi con gli alimenti la Calabria continua ad essere una delle regioni tra le più povere quindi noi ci teniamo a fare in modo che il contrasto alle povertà sia vecchie che nuove diventi sempre più efficace ed incisivo per questo ci adoperiamo e facciamo a nostra volta anche un appello ai nostri imprenditori a tutte le istituzioni perché si facciano anche loro promotori insieme a noi di un'azione ancora più incisiva l'incontro a cui ha preso parte il sindaco della città Caracciolo e il vescovo incentrati sui valori della solidarietà e della gratuità Donare con gratuità è la cosa più bella che distingue il cristiano cioè dare senza aspettarsi nulla e questi sono momenti di fratellanza umana che qualificano non solo i cristiani ma anche coloro che credono nei valori umani nella convivenza delle persone Siamo allo sport al calcio in campo la Serie C e le squadre calabresi per la regina un turno particolare contro un avversario in grande difficoltà che forse manderà in campo un manipolo di ragazzi gara intensa invece tra Catanzaro e Catania mentre la Vibonese vuole stupire anche in trasferta vediamo Potrebbe essere una pura formalità l'impegno di domani per la regina di Mimo Toscano non è ancora certo ma è molto probabile che Rieti scenda in campo con la formazione Berretti come atto di protesta nei confronti della società laziale che non riesce a risolvere le problematiche economiche e organizzative che rischiano di mettere fine anticipatamente alla stagione in ogni caso lo scopinio domani sarà chiuso al pubblico per gli Amaranto si tratterà dunque più di una gita che di una trasferta ma per il calcio italiano è l'ennesima pagina nera che condiziona e condizionerà lo svolgimento del torneo sarà garavera invece e anche importante per entrambe le squadre Catanzaro-Catania sfida tra deluse che aspirano a migliorare il proprio score per ridurre lo svantaggio accumulato in classifica distanziati da un punto calabresi e siciliani si giocano una chance rilevante trasferta impegnativa per la Vibonese che se la vedrà con il potenza il Viviani è il punto di forza dei Lucani della squadra di Modica ancora non è riuscita a raccogliere il massimo lontano dal razza ma numeri precedenti contano poco quando si affrontano squadre che giocano a viso aperto e che hanno ambizioni sì ma non assili di classifica servono e come i punti a rende che lancia la sfida al Picerno vincere la razza è d'obbligo per i biancorossi per avvicinarsi alla zona salvezza dallo sport allo spettacolo successo di pubblico per la prima della pace in scena al teatro comunale di Mendicino in scena 13 migranti coinvolti nel progetto l'arte di conoscersi in cantiere si tratta di una iniziativa unica nel sud Italia nei prossimi giorni previste repliche anche a Rossano e Filadelfia vediamo il vostro infelice bivacco è finalmente terminato sul palcoscenico del teatro di Mendicino in scena la pace di Aristofane gli attori bravi ed emozionati sono 13 migranti minori non accompagnati ragazzi che non hanno compiuto 18 anni provengono dal Pakistan Ghana Senegal Gambia e Mali protagonisti della performance che rappresenta l'esito del laboratorio il teatro non a colori del progetto unico del sud Italia l'arte di conoscersi in cantiere voluto dall'associazione partecipazione Ollus di cui è presidente Vittoria Paradiso vicepresidente Davila Scarpelli e tesoriere Giampaolo Rosa beneficiario del progetto finanziato con risorse del fondo fami del ministero dell'interno il comune di Mendicino con il sindaco Antonio Palermo che ha ribadito la difesa di valori universali quali l'accoglienza teatro gremito per la prima a cui ha portato il saluto in rappresentanza della prefettura di Cosenza Antonella Vecchio la storia di un viaggio e di un bene perduto la pace per la regia di Mario Massaro drammaturgia Elisa Ianni Palarchio che ha entusiasmato il pubblico repliche dello spettacolo previste anche la prossima settimana il 19.20 mattina a Rossano il 27 novembre a Filadelfia e noi chiudiamo con le previsioni del tempo il flusso atlantico presenta una vasta saccatura che si estende sin verso il Nord Africa al cui interno sono presenti diverse aree di bassa pressione al suolo una di queste in particolare si formerà nel pomeriggio di sabato sulla Tunisia e nel suo movimento successivo verso Nord apporterà maltempo sulla nostra regione per la giornata di domenica domani irregolarmente nuvoloso con precipitazioni che in differenti momenti della giornata interesseranno tutto il territorio regionale localmente anche sotto forma di rovescio temporale in serata i fenomeni si concentreranno sui versanti tirrenici e le zone interne e saranno anche debolmente levosi su Pollino e Sila sopra i 1500 1600 metri di quota temperature in calo in particolare nei valori minori passiamo a mari e venti domani mari molto mossi a tratti agitato il basso ionio al mattino e il tirreno cosentino a partire dal pomeriggio venti inizialmente da sud che poi nella seconda parte della giornata ruoteranno proveniendo da ovest moderati a tratti forti per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina facebook Meteo in Calabria è tutto ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi grazie in regia Michele Cava in Messino Onda a Giuseppe Costanzo noi vi auguriamo un buon proseguimento grazie a tutti